Buongiorno a tutte, a tutte le associate di Iolipedema, siamo Piero Ag e Ilaria Macherelli di MH Fisio. Ciao a tutte, vi facciamo questo video per farvi sentire la nostra vaccinanza durante questo periodo così delicato e particolare. Anche noi purtroppo abbiamo potuto vedere lo studio, non possiamo assistere le pazienti del domicilio, quindi anche chi di voi è stata operata recentemente, purtroppo non la possiamo seguire di persona, però vi volevamo dire che stiamo a disposizione per fare videochiamate, telefonate, Skype, se avete necessità ci possiamo sentire, siamo molto attivi sui social in questi giorni e quindi appunto ci faceva piacere farvi sentire la nostra vicinanza. Un saluto a tutte. Restiamo a casa.